buongiorno buongiorno ci sentite benvenuti a tutti allora benvenuti sì ok ci sentite vediamo i primi feedback buongiorno a tutti benvenuti vi ringraziamo di essere presenti al nostro penultimo webinar e in particolare io ringrazio quelli del sud america brasile argentina perché credo sia prestissimo lì le sei di mattina e ci auguriamo di darvi la carica giusta per la giornata di lavoro scusa penultimo webinar per il 2016 sì il prossimo l'ultimo sarà quello del dottor marin sul video quindi tra due settimane e poi se volete potrete troverete anche il link per iscrivervi allora per chi già ha seguito i nostri webinar sapete come funziona troverete questa domande e risposte questo box noi leggiamo le domande e le risposte scusate leggiamo le domande e vi rispondiamo di solito o live o con un messaggio privato perché non è una chat in modo che siate più concentrati su quello che vi chiediamo di fare io direi che possiamo cominciare se non ci sono problemi se avete problemi ricordate webinar chiocciola edilingua.it vi risponde la nostra collega Elena Vianello allora io direi di cominciare e vediamo cosa faremo oggi allora oggi parliamo appunto dell'insegnamento dell'italiano ai bambini più in generale dell'insegnamento delle lingue ai bambini perché faremo alcune considerazioni generali che poi hanno delle ripercussioni sul vostro lavoro sull'intervento didattico che create nella prima parte nella seconda con Anna sì la prima parte vedrete appunto una introduzione più teorica no con Elita invece con me passeremo all'aspetto più pratico e vedremo di pianificare una lezione tra virgolette per i bambini e analizzeremo alcune attività perfetto cominciamo sì me ne vado buon lavoro ciao allora cominciamo se avete problemi se avete domande scriveteci e direi comunque di cominciare allora partiamo da delle considerazioni generali abbiamo detto la prima cosa che vorrei commentare con voi è la nostra scelta di mettere come secondo punto pianificheremo una lezione tra virgolette per bambini abbiamo scelto di mettere lezione tra virgolette per una questione di perché non faremo riferimento esattamente a un contesto di insegnamento formale ed insegnamento agli adulti perché questi due insegnamenti agli adulti e bambini vedremo hanno delle caratteristiche molto diverse soprattutto perché l'apprendente è molto diverso per lo stesso motivo noi condividiamo anzi accettiamo la proposta del professore dallo iso di cambiare la dicitura insegnamento precoce delle lingue con accostamento alle lingue in tenera età perché preferiamo accostamento alle lingue in tenera età piuttosto che insegnamento precoce ma soprattutto perché anzi non soprattutto perché è un processo di apprendimento naturale apprendere una lingua è un processo naturale quindi si innesca automaticamente e ha date alcune condizioni come l'esposizione alla lingua e segue delle tappe ben definite è un processo sul quale noi come insegnanti come educatori anche come genitori o zii nel mio caso non possiamo intervenire non possiamo cambiare queste tappe ma possiamo solo facilitare questo processo come facilitiamo questo processo creando le condizioni più favorevole più favorevoli possibile a questo perché questo si inneschi e continui come possiamo creare queste condizioni favorevoli ma innanzitutto tenendo conto dell'apprendente eh del bambino dal punto di vista affettivo psicologico ma anche cognitivo eh proprio le caratteristiche del bambino che apprende sono importanti perché vari studi e lo sapete molto bene anche voi come insegnanti e anche come eh apprendenti di lingue o in generale apprendenti eh vari studi hanno dimostrato quanto eh sia molto diverso il risultato che otteniamo in base all'età e anche al metodo di alle modalità di apprendimento di una lingua quindi dal punto di vista cognitivo il bambino ha delle caratteristiche che vanno tenute in considerazione nel momento della programmazione dell'intervento didattico prima di vedere quindi queste caratteristiche e quali ripercussioni hanno sul ehm sul vostro intervento sul vostro lavoro vorrei mettervi insomma chiedervi un po' la vostra opinione secondo voi esistono ci sono degli svantaggi nell'accostamento eh alle lingue intanera età eh credete che ci siano degli svantaggi potete rispondere qui sotto e poi li commentiamo no le vostre risposte sono molto decise no secondo me no no assolutamente eh bene se ci sono solo vantaggi ci sono solo vantaggi sì eh in un certo senso fino agli anni è vero ci sono solo vantaggi come avete detto voi eh però fino agli anni sessanta ci sono state una serie di pregiudizi che sono stati sfatati eh da vari studi in particolare facciamo riferimento in questo caso e anche in tutto eh la parte teorica agli studi sul bilinguismo perché eh ci sono più studi sul bilinguismo che sul multilinguismo e plurilinguismo eh in particolare in questo caso parliamo di eh danesi e per Lambert fino agli anni sessanta appunto eh si è parlata di difficoltà eh e ritardo cognitivo quindi si diceva che imparare due lingue eh togliesse spazio in un certo senso ad altre cose o che una lingua togliesse spazio all'altra e che ci fossero delle difficoltà di concentrazione a causa di questo e che il bambino non fosse in grado di portare a termine dei task si parlava quindi di difficoltà di apprendimento si fa confusione tra i due codici non si ehm non si si riconoscono le lingue quindi eh non si è in grado di produrre di parlare correttamente di parlare bene c'è un ritardo eh perciò si parla anche di problemi scolastici eh molto spesso veniva consigliato ai genitori di imparare prima una lingua e poi sottoporre insomma eh dare la possibilità al bambino di imparare una seconda lingua eh abbiamo visto che anche questo non non è vero e l'ultimo grande pregiudizio e questo forse eh riguarda in particolare ehm eh figli bambini nati da genitori che stranieri che si trovano in Italia o italiani eh che si trovano all'estero o coppie miste anche una difficoltà di integrazione quindi la difficoltà di ehm di portare la seconda lingua in contesti che non siano quelli eh familiari o di essere insomma eh ben accetti anche questo abbiamo visto visto che con più informazione e anche con la preparazione di eh docenti e altri eh docenti educatori servizi sociali eh può essere evitato. Eh direi che visti gli svantaggi eh voglio sapere se invece siete più preparati forse sui vantaggi dell'esposizione a più lingue. Siete stati molto bravi con gli svantaggi vediamo se eh conoscete potete un po' ricordate anche eh quali potrebbero essere i vantaggi. Eh te ne leggo ti leggo alcune risposte magari. Elasticità mentale, miglior apprendimento, chi è più giovane appunto apprende apprende meglio, apprendimento spontaneo e naturale soprattutto. Ok. Apertura mentale. Sviluppo della memoria. Si apprendono le lingue in generale più facilmente. Sì. Vediamo. Si sviluppa maggiormente l'area linguistica del cervello. La pronuncia più corretta. Sviluppo di due codici paralleli. Ok. Lasciamo ancora, vediamo. Meno inibizioni, credo ci sia scritto a un certo punto. Più agilità di pensiero. Scusate quando sono con la testa giù sinistra che sto nel genere le vostre risposte. Bene, io direi che sì, avete parlato un po' tutti dei vantaggi. Quali sono? In generale possiamo dire che il bambino ha dei vantaggi sia dal punto di vista cognitivo che linguistico che sociale, che delle competenze sociali. Da quello linguistico, come avete detto voi, eh conoscendo subito due lingue, arrivando a conoscere subito due lingue, ehm ha una maggiore consapevolezza di suoni, parole e frasi. Quindi una maggiore abilità metalinguistica. Questo lo aiuta, come avete detto, a avere minori difficoltà poi ad imparare una ulteriore o ulteriori lingue straniere. La stessa ehm abilità metalinguistica poi lo aiuta a ehm apprendere velocemente a leggere. Riesce a leggere prima di un bambino monolingue. Dal punto di vista invece eh cognitivo possiamo dire che ha una maggiore capacità di svolgere compiti eh due compiti contemporaneamente o in veloce sequenza. Questo perché eh il bambino ha imparato fin dall'inizio ad inibire delle informazioni non importanti e quindi ha un'attenzione selettiva su quello che gli interessa in particolare. Naturalmente questo si sviluppa perché avendo a che fare con due lingue e con diversi interlocutori il bambino fin dall'inizio deve capire quale lingua utilizzare verso quell'interlocutore e anche riuscire insomma a mettere, a chiudere in una scatolina la lingua che non deve utilizzare, di cui non ha bisogno. Un altro molto importante ehm vantaggio è che dal punto di vista della consapevolezza di sé e degli altri il bambino bambino plurilingue sviluppa la teoria della mente T.O.M. eh theory of mind prima del bambino monolingue. Quindi ha una precoce capacità di riflettere sul suo comportamento e sul comportamento degli altri e questo lo porta a valutare i comportamenti e anche a fare delle ipotesi sui possibili comportamenti che si troverà ad affrontare. Un altro e qui passiamo invece alle competenze sociali eh un altro vantaggio è la maggiore tolleranza verso le altre culture e quindi ehm questo credo che sia una delle vostre risposte, una delle prime risposte che avete dato anche oggi. Eh se non ci sono domande. No se vuoi già dire perché qualcuno ci chiede ma ma bibliografia. Ah giusto eh oggi mi sa che mi sono dimenticata di dire che alla fine le cose a cui facciamo riferimento le trovate in una bibliografia scaricabile, un pdf. Alcuni sono dei volumi, altri sono eh degli articoli che tratti da altri volumi, qualcosa potete trovare in internet perché come vi ho detto abbiamo fatto soprattutto riferimento al agli studiosi del bilinguismo e ci sono alcune associazioni eh di insegnanti e di genitori di bambini eh plurilingue. Bene. Smile. Eh d'accordo. Eh continuiamo? Sì. Non ci sono domande? Bene. Allora molti di questi vantaggi che abbiamo visto sono dati da eh aspetti neurologico cognitivi del bambino ehm in se stesso. Vediamo un po' quali sono questi aspetti neurologico cognitivi. Ora io farò un elenco, cercherò di eh essere più chiara possibile eh però non ho messo l'età. Però state attenti anche all'età perché è molto importante. Dunque il primo aspetto neurologico cognitivo che dobbiamo tenere in considerazione quando eh ci rapportiamo al bambino come apprendente è ehm il meccanismo di memorizzazione. Fino ai sei anni il bambino può contare sulla memoria implicita. Quindi sono delle conoscenze casuali eh sono delle conoscenze che si basano sull'automatismo e che migliorano con la pratica. Quindi è molto importante la pratica prima dei sei anni. Dai sei anni in poi verso i sei anni maturano invece i meccanismi eh della memoria esplicita che è quella alla quale facciamo riferimento che abbiamo a disposizione noi adulti. Quindi la possibilità di richiamare delle informazioni in ehm in maniera eh razionale e anche volontaria. Questo è molto importante. Quindi verso i sei anni matura la memoria esplicita. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che un bambino è il suo massimo sviluppo sensoriale. Quindi utilizza tutti i sensi per entrare in contatto, per recepire delle informazioni. E allo stesso modo anche utilizzando più sensi riuscirà a trattenere meglio le informazioni, cioè quello che ha fatto. Un altro aspetto è questo del il processo della mielinizazione. Dunque eh i prossimi tre aspetti, quello della mielinizazione e appunto i prossimi due forse vi ricordate ne ha parlato anche il dottor Marin nel suo seminario sulla neurolinguistica eh che c'è stato qualche settimana fa. Eh il processo di mielinizazione inizia verso i sette anni e questo processo la mielinizazione è quel processo che ci aiuta, che ci permette di avere una memoria persistente e si conclude intorno ai venti. Quindi con i bambini più piccoli eh dobbiamo pensare che dobbiamo lavorare soprattutto con la memoria a breve termine e non quella a lungo termine. Quindi anche gli input e questo lo vedrete poi con Anna dovranno essere eh concisi in un certo senso e ridondanti, quindi ritornare. Lo stesso, lo stesso, un'altra cosa molto importante è la persistenza dell'attenzione. Anche questo appunto l'abbiamo visto con il dottor Marin. Eh nei bambini sotto gli otto anni la persistenza dell'attenzione è molto eh difettosa, così si dice, eh per dire che hanno eh una difficoltà a rimanere attenti. Questo non è che cambia con l'età e ricordiamoci che però anche gli adulti hanno delle difficoltà, cioè oltre i dieci minuti non riescono a eh prestare attenzione. Un ultimo eh punto invece è la la lateralizzazione cerebrale, quella che eh si completa intorno ai sette anni e porta alla stabilizzazione delle funzioni eh delle aree specifiche del cervello. Oltre dopo i sette anni il bambino è anche capace di elaborare le informazioni, l'adulto, l'individuo, non il bambino, l'individuo è capace di elaborare le informazioni analiticamente, mentre prima eh soltanto globalmente. Allora tutti questi aspetti neurologico cognitivi che abbiamo elencato e che eh spero siano chiari ma appunto poi troverete la bibliografia di riferimento eh devono ehm essere presi, tenuti in considerazione quando andiamo a pianificare un intervento didattico. Dobbiamo tener conto dell'età del bambino. Naturalmente i bambini prima abbiamo avete sentito, ho parlato spesso di ai sei anni, sette anni, otto anni, quindi dobbiamo ricordarci che intorno ai sette, otto anni eh nell'individuo avviene una forte, una importante maturazione cognitiva. Eh perciò dobbiamo mh ricordarci che gli interventi prima dei sette anni e dopo i sette anni dovranno avere eh delle caratteristiche diverse. In ogni caso io propongo distillare una lista ehm di possiamo dire eh linee guida generali per l'insegnamento ai bambini che va bene sia per i bambini ma vedrete che molto spesso anche per gli adulti va tenuta in considerazione. Ci sono domande? No, stanno seguendo piacevolmente. Ok, perché intanto vedo movimenti, mi chiedo se. Dunque, cominciamo. Eh voglio il vostro aiuto naturalmente. Viste le caratteristiche neurologico cognitive del bambino, che tipo di esperienze pianificheremo? Saranno globali, abbiamo detto per la maturazione eh per la lateralizzazione della eh del processo di lateralizzazione del cervello. Saranno pratiche, perché abbiamo detto ma si mantengono meglio le informazioni quando si usano le mani e poi cos'altro ci aiuta a eh ricordare quello che facciamo? Allora Marta e Nicoletta dicono ludiche, poi c'è Maria Luana che dice sensoriali e poi stanno cominciando a rispondere tantissimi. Ok. Allora. in questo caso ho messo multisensoriali, d'accordo? Poi ludiche lo vedremo tra un attimo, perché appunto aiuta a coinvolgere più sensi in un'esperienza didattica, linguistica, ci aiuta a mantenere meglio le informazioni. Saranno anche naturalmente reiterate, graduali e ordinate, ma questo lo vedrete anche con Anna quando parleremo di input in particolare. L'accostamento alla regola, sempre per quella questione della lateralizzazione, sarà sempre, questo è facilissimo, sarà sempre deduttivo, induttivo? Aspetta, induttivo! Bravissimi, induttivo. Dunque dall'esecuzione possiamo fare una serie di esercizi, possiamo eseguire delle cose ai bambini fisicamente anche dei giochi e poi dall'esecuzione troviamo la regola. Un po' più grandi celli possiamo anche enunciare la regola, far capire ai bambini qual è la regola, tanto se hanno già un'altra lingua di supporto hanno capito di che cosa stiamo parlando molto probabilmente. Dobbiamo pensare a delle attività a mediazione sociale, in particolare confronto tra pari e gioco. Questo perché? Perché in il contesto che dobbiamo creare, qualche volta dobbiamo creare un contesto che sia ricco di input. Ci capita di avere bambini, almeno a me è capitato di lavorare con bambini che in casa non parlavano italiano, quindi avevo bisogno di dare il più possibile input in classe. Facendoli interagire tra di loro e giocare tra di loro vediamo che c'è più input e poi ci sarà anche un maggiore output, perché appunto loro stessi parlano. La dimensione della lingua che dobbiamo tenere in considerazione rispetto agli adulti, anche con gli adulti funziona comunque, quale sarà? Ricordiamoci che i bambini conoscono molto bene linguaggi e codici di tipo narrativo, le filastrocchie, le canzoni, le poesie, i disegni. Quindi quale sarà la dimensione della lingua che dobbiamo tenere presente, alla quale dobbiamo fare riferimento secondo voi? Allora, la prima risposta è stata Carmelita, dice ludica e didattica. Poi comunque stanno scrivendo giocosa, ludica. Ok, io ho scelto espressiva, quindi anche il disegno, la possibilità di esprimersi e creativa della lingua, perché per i bambini è importante anche poter giocare con la lingua, perché loro stessi lo fanno, di mescolare una lingua, l'italiano, con la loro lingua madre, succede, o il contrario, e non lo stanno facendo perché stanno sbagliando, ma stanno scherzando con voi, ci stanno proprio giocando con la lingua e ci fanno vedere quindi che hanno una completa capacità di intendere quello che stanno facendo. Un'altra cosa, e qui partiamo, abbiamo gli ultimi due punti e qui vediamo la differenza tra bambino e adulto in particolare, la motivazione. Non possiamo fare leva sulla motivazione pratiche e sulle motivazioni pratiche strumentali che usiamo con gli adulti, no? Con i bambini dovremmo provare, trovare delle motivazioni innate, spontanee. Per esempio, su che cosa possiamo fare leva con i bambini? Vedo che dite, vedo, 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 vedo. Sì, il piacere, ottimo. La curiosità, sì, il piacere di imparare, esatto. Rendere il bambino curioso gli farà venire voglia, naturalmente, di vedere cosa succede dopo e quindi stare molto ben attento e di andare avanti. Un'altra grande differenza con gli adulti sono i bisogni comunicativi. L'adulto spesso, abbiamo detto adesso, fa, la sua motivazione è utilitaristica, il bambino non ce l'ha e anche i bisogni comunicativi di un adulto sono determinati dal contesto che può essere lavorativo, di vita nel paese estero, invece con il bambino qual è, secondo voi, il loro principale contesto comunicativo? Quale può essere il principale il contesto comunicativo di un bambino? Con i suoi coetanei, in casa? E io? Sì. Gioco, principalmente. Gioco. Sì, vengono anche la classe, gli amici, la scuola, la famiglia, gli altri bambini. Esatto, anch'io ho messo gioco, la dimensione ludica, il gioco che è appunto la dimensione all'interno della quale si rapportano con i compagni di classe. Anche la routine quotidiana con i genitori, se hanno bisogno, ieri qualcuno ci diceva, bisogni fondamentali, dire che ha fame. Anche questo sì. Ricordiamoci però, e qui faccio riferimento anche ai bambini più piccoli, che il bambino sente l'inizio la necessità di comunicare, non avendo a disposizione il codice linguistico, comunica con strategie comunicative che sono dette come la mimica e la gestualità. E anche questo è importante lavorare anche su questo. Bene, visti un po' queste ripercussioni sulla pianificazione dell'intervento didattico, io vorrei tirare un po' le fila con i tre punti chiave per creare questo famoso contesto di cui parlavamo prima, che deve essere favorevole all'attivazione di questi processi. E qui parliamo proprio della classe, cioè di come può essere la classe, che cosa possiamo fare in classe. Abbiamo individuato questi tre punti chiave, ci piace un po' riassumere così. Il primo punto è l'ambiente di apprendimento. Secondo voi che cosa, quali sono le caratteristiche che deve avere un ambiente di apprendimento per i bambini? O quelle che già avete creato, perché alcuni di voi sono sicura già insegnano i bambini, vedendo le vostre risposte. Un ambiente accogliente, giocoso, colorato, piacevole, stimolante, rilassante, ludico. Esatto, noi ce lo immaginiamo così, come in questa immagine che spero vediate, quindi ricco di stimoli visivi, ricco di colori, con gli arredi molto semplici, perché gli arredi semplici per non farsi male e per spostarli facilmente e non farsi male quando utilizziamo lo spazio per il movimento. Abbiamo appena letto quanto siano importanti le esperienze pratiche, multisensoriali, globali, e quindi la necessità di organizzare attività di gruppo e quindi di confronto tra pari per maggiori input e maggiori output. Giocare, cantare, ballare, abbiamo bisogno di spazio per fare questo, non si può farlo seduti davanti a un banco, o almeno si può fare ma non è così divertente. E appunto ho detto non è così divertente perché divertirsi, che è quello che dà il titolo al nostro webinar è una cosa molto seria, lo è per i bambini quanto lo è poi per gli adulti. Il gioco e il divertimento sono le sferie nelle quali rientrano i bisogni comunicativi dei bambini, quindi divertirsi è una cosa seria e se non mi diverto è molto difficile che io mi incuriosisca e apprenda. Io avrei finito la parte teorica, se non avete qualche domande passerei a quella pratica e lascerei la parola ad Anna. Vediamo se c'è qualche domanda, nel frattempo facciamo il cambio e così poi posso rispondere. Sì, grazie. Allora, eccomi qua. Hai già spostato tutto tu, perfetto. Non sono caduta, sono qua. Adesso riattivo la webcam. Eccoci qui. Perfetto. Allora, avete visto con Elisa i tre punti chiave, ovvero i tre presupposti per noi imprescindibili dell'insegnamento di una lingua ai bambini o comunque dell'insegnamento ai bambini. Vediamo ora come pianificare una lezione, abbiamo detto una lezione tra virgolette perché forse possiamo più forse definirla una sorta di incontro, appunto per questo tipo di pubblico di bambini. E poi anche alcuni esempi pratici di attività che potrete anche riutilizzare nelle vostre classi oggi stesso se volete. Allora, nello specifico oggi analizzeremo delle attività che sono pensate per bambini di età maggiore di 7 anni. Questo perché, come avete visto con Elisa, hanno delle esigenze diverse dai bambini più piccoli e oggi ci concentreremo su questa categoria. Allora, nel pianificare una lezione è importante innanzitutto individuare quanti e quali sono i momenti che devono caratterizzare la lezione stessa. E noi ne abbiamo individuati quattro. Allora, la prima fase è quella di introduzione e di primo contatto, una seconda fase di presentazione e analisi del testo, una terza fase di fissaggio di contenuti e una quarta e ultima fase di verifica. Questi momenti, però, vanno sempre preceduti, secondo noi, da una fase altrettanto importante per facilitare l'apprendimento da parte dei bambini ed è una fase che noi abbiamo chiamato fase 0. Che cosa facciamo in questo momento della lezione, dell'incontro? Voi, vorrei sapere da voi, vi metto un sondaggio che trovate qui sotto il mio viso, che cosa è importante esplicitare prima ancora di cominciare una lezione con i bambini, eh? Ok, vedo che la maggior parte sta rispondendo già agli obiettivi, le attività, i tempi non piacciono. No, sì, effettivamente, no, i tempi è difficile dire 10 minuti, un bambino non ha la concezione del tempo, però magari la progressione di tempi, sì, cosa si fa prima, cosa si fa dopo. Esatto. Ok, allora, vediamo insieme, appunto, dicevamo, in questa fase è importante esplicitare, come avete risposto bene, gli obiettivi, quello che andremo a vedere, non so, oggi vediamo i i nomi degli animali, per esempio, i tempi, quindi ora, stamattina, no, e le attività, quello che andremo a fare. Perché? Perché anche come gli adulti, anche i bambini hanno bisogno di capire cosa stanno facendo. Ok, detto questo, passiamo ad analizzare la prima fase, la fase, come abbiamo detto, di introduzione e primo contatto. Noi abbiamo, che cosa abbiamo fatto nella fase 0? Abbiamo stretto una sorta di fatto con i nostri studenti, con questi bambini. Abbiamo quindi esplicitato quali sono i termini della nostra lezione e quindi ora possiamo passare all'incontro con gli elementi linguistici che abbiamo scelto di trattare. Quindi che cosa facciamo in questo caso? Prepariamo lo studente ad affrontare il testo fondamentalmente. Allora, voi, aspettate che vi cambio il, vi metto il sondaggio. Voi che cosa fate prima di presentare un nuovo testo in classe? Su che cosa vi dedicate, insomma? Fate delle domande? Ok, un brainstorming. Controlliamo il vecchio vocabolario. Esatto. Parole, lessico, immagini. Sì, consegniamo delle immagini, vedo. Quindi controlliamo il vecchio lessico, vedo il nuovo lessico, qualcuno parla dell'argomento, quindi parla un po', lo contestualizza, molte immagini, canzoni, parole chiave. Esatto. Ok, io direi che ci siamo? Sì, tutto questo che avete detto, che state scrivendo è esatto. Perché facciamo questo? Perché abbiamo bisogno di attivare le preconoscenze del bambino, come avete giustamente detto. Abbiamo bisogno anche di riprendere i contenuti che già sanno, che hanno già visto, che avete visto insieme fondamentalmente e di fornire le parole chiave che serviranno poi per la fase successiva per comprendere meglio l'input che daremo successivamente. Qual è lo scopo di questa attività, quindi, che voi fate in questa fase, che noi insegnanti facciamo in questa fase? È appunto quella di fornire gli strumenti che permetteranno al bambino di avvicinarsi ai nuovi contenuti senza paura, senza timori. Perché questo? Perché gli strumenti che noi forniamo in questo modo creano interesse, quindi interessiamo i bambini, li motiviamo, abbassiamo il filtro affettivo, perché? Perché anche riprendendo dei contenuti li facciamo sentire un po' a loro agio, no? Perché sanno già qualcosa, si rendono conto che sì, non sono completamente immersi in un mondo nuovo, ma ritrovano dei punti fermi. E infine aiutiamo la comprensione, perché dando appunto le parole chiave, diamo i mezzi e le parole per comprendere meglio lo stimolo che presenteremo appunto nella seconda fase. Vediamo qualche esempio più pratico, però, perché qui non facciamo solo teoria. Allora, vediamo questa immagine, osservate, aspettate che vi cambio il sondaggio, grazie Elisa. Allora, osservate bene questa immagine, gli elementi che vedete e provate a rispondermi, su quali elementi portereste l'attenzione dei bambini? I colori, il gatto, il gatto lo vedono tutti quanti. I armali, i mobili. Il cane, sì. Quindi molto lessico. Vediamo se esce anche qualcos'altro oltre al lessico. La casa, anche sempre come lessico. E su cosa lavorereste? Oltre al lessico, forse c'è qualcos'altro, su cui possiamo lavorare? O come lavorerete con il lessico? Non riesco a leggere le altre? La restrizione, quindi anche sì, anche un ottimo tipo di testo, la restrizione. In generale sì, però, vedo soprattutto lessico e vocabolario, no? Ti piace, può dare sì, ti piace. Fare anche delle supposizioni. Immaginare dove è il padrone, come mai, cosa stanno facendo gli animali mentre il padrone è via, come ti sentiresti, quindi anche lavorare sulle sensazioni. Dov'è il gatto? Ok. Proposizioni di luogo, qualcuno lì ci ha visto adesso. Sì, posizione degli oggetti, quindi anche posizione. Ok. Bravi. Ok, esattamente. Adesso vediamo come noi abbiamo pensato di sfruttare questa immagine. Allora, questa attività, spero che la vediate adesso fra un po' ve la zoom, l'attività che abbiamo proposto è quella di cerca l'animale e metti un tic. Eccoci qua. Allora, che cosa facciamo con questa attività? Svariate cose, perché innanzitutto formiamo il lessico in una maniera più indiretta, quindi attraverso un'attività ludica, perché loro devono riconoscere l'immagine, la vanno a cercare dentro la stanza, però contemporaneamente vedono il nome dell'animale scritto. Poi, oltre a questo, riprendiamo anche dei contenuti. Perché? Perché magari la parola gatto già la conoscono, magari ce l'hanno a casa, però un pappagallo forse no. E quindi introduciamo anche lessico nuovo e riprendiamo quello vecchio. Che altro possiamo fare? Come qualcuno ha detto e risposto, potremmo utilizzare questa immagine anche per riprendere gli indicatori spaziali. Giocando, per esempio, a un gioco dove il gatto è tra la tavola e il italiano, oppure qual è l'animale dietro la televisione. Ecco, questi sono solo alcuni spunti. Sì, perché si riconosce la televisione. Sì, va bene. Allora, questo era un primo spunto. Vediamo un altro, una canzone. Allora, ve la faccio ascoltare e poi mi dite, un pezzettino, e poi mi dite come possiamo eventualmente utilizzarla. È partita? Sì. Spero il volume non si è più alto. Non è partita? Sì. Sì. Ok, direi che è sufficiente, no? Sì. Allora, la stessa è la mia giornata. Ok, direi che è sufficiente, no? Sì. Allora, la stop. Ok, era per farvi sentire solo una piccola parte della canzone, però sono sicura che voi... no, non siamo ancora all'attività. No, ma come è buio, no? Sì. No. No, no, scusatemi, nel senso, volevo prima farvi un'altra domanda, prima di far partire il sondaggio. Allora, dicevo, vi ho fatto sentire solo un piccolo pezzo della canzone, però sicuramente avrete captato quali sono gli elementi presenti su cui si potrebbe lavorare. C'è qualcuno che ci risponde? Allora, io vedo, oggetti in bagno e nelle stranze. Presente. Verbi riflessivi, che ore sono? Sì, le ore. Ok, le routine, perfetto. Esattamente, questi sono gli elementi su cui effettivamente si può lavorare. Allora, adesso posso... Allora quotidiane, attività quotidiane, vediamo immagini, verbi riflessivi, la routine, i numeri, le ore... Ci siamo, direi? Sì, sì, sì. Quindi, perfetto. Allora, adesso vi posso mettere il sondaggio, che avevate già iniziato a rispondere. E avendo detto quali sono gli elementi su cui potremmo poi lavorare, quale attività proporreste per presentare questa canzone? Allora. Dunque, lasciamo un po' di tempo che si stabilizzino. Comunque, vedo che un po' tutte le attività sono state, fanno scelte, completamento, abbinamento, dramatizzazione, karaoke, gioco, riordino, taglia e incolla. Vorrei che vi ricordaste, potete cambiare le vostre risposte, che siamo in una fase di introduzione e primo contatto. Quindi, non di analisi ancora. Abbinamento sì, ma come? Sarebbe molto bello, no? Che loro potessero adesso incontrarsi e creare un'attività. Purtroppo, questo è uno dei limiti del webinar, che non siamo in presenza. Ma dovremo trovarmi presto. Va bene. Allora, vedo che la dramatizzazione vince sempre. Allora, vediamo cosa proporremmo noi. Vi diamo un piccolo aiutino, forse qualcuno capirà da questa immagine che cosa abbiamo fatto. Allora, eccoci qua. Che cosa abbiamo preparato? Noi faremo fare un'attività di taglia e incolla. Quindi, forniamo delle immagini che rappresentano appunto le azioni della giornata. I bambini le devono ritagliare e poi, quando ascoltano la canzone, devono inserire appunto l'immagine giusta e incollarla sulla fetta dell'orario esatto. Quindi, in questo modo, che cosa abbiamo fatto? Si tratta di una transcodifica, però l'abbiamo fatta sotto forma di gioco. E vediamo se... Ok, perfetto. Che cosa abbiamo fatto finora? Queste erano solo un paio di idee, perché stamattina non abbiamo molto tempo e appunto, trattandosi di un webinar, non vi posso fare lavorare in maniera attiva. Però, sicuramente, vi abbiamo dato qualche spunto per avvicinare appunto il bambino al tema, che poi introdurrete, e riprendere, come abbiamo detto, i contenuti, metterlo a suo agio con attività che comunque lo appassionano e lo divertono, no? Queste attività giocose, le taglia e incolla, trova l'animale nascosto. E comunque, come abbiamo detto, li renderanno la prossima fase molto più semplice. Vabbè, mi hanno chiesto... Dunque, chiedono proprio come utilizzare questa attività, magari lo vedremo anche dopo con i link vari. Quante volte si fa ascoltare? Si può fare ascoltare una volta, la seconda volta li tagliare? Voglio dire, i bambini non si annoiano mai con le canzoni, nel frattempo poi imparano un po' il ritmo, le parole e prendono la routine. Ok, grazie Elisa. Allora, passiamo al secondo momento, allora se... Vabbè, al massimo, alla fine, cercheremo di rispondere alle altre domande, se ce ne sono. Passiamo, abbiamo detto al secondo momento, che è il momento dell'incontro con il testo vero e proprio. Però facciamo prima una piccola parentesi, una piccola digressione sui tipi di testo. Quindi, quando noi parliamo di testo, parliamo sempre di... ci riferiamo ad un input. E sappiamo tutti ormai che ci sono tanti tipi di input, vari tipi di input. Quali sono? Visivi, orali e scritti. Non ve lo chiedo perché so che siete preparatissimi e li conoscete meglio di me. Allora, però vorrei chiedervi se parliamo di input visivi. Quali tipo di input, appunto, possiamo utilizzare con i bambini? che voi stessi utilizzate già, perché ovviamente... Immagini. Immagini. Oggetti concreti. Oggetti concreti. Video, marionette. Sì, che voglio dire che gli oggetti concreti. Sì, ci siamo, direi. Vedi, immagini, foto, video, oggetti concreti. Oggetti concreti. Mi sembra che sia molto importante, è un input visivo. E abbiamo prima detto, no, della multisessorialità, quindi non solo la vista, ma anche la possibilità magari di cambiare e girare le lancette dell'orologio. E se non vedete le risposte, è perché le leggo solo io. Infatti, sono private. Elisa ci aiuta. Ok, allora, esattamente come avete detto, e soprattutto, appunto, gli input devono essere delle immagini di vario tipo, come ci avete giustamente scritto. E oppure dei fumetti. Perché, appunto, utilizziamo questo tipo di immagini, questo tipo di, scusatemi, input visivi? Cosa ci permettono di fare? Le immagini di fumetti. Lascio un minutino, neanche 30 secondi. Sì, esattamente, come state scrivendo, ci permettono, appunto, di comprendere meglio, perché, sì, le immagini aiutano sempre la comprensione. Attivano la memoria, e abbiamo detto, no, eventualmente preconoscenze. Aiutano a creare anche delle storie. Perché me l'hai cambiato? Scusami, scusami. Grazie. Per esempio, con i fumetti possiamo, appunto, farli creare delle storie. E se aggiungiamo dei dialoghi, presentano anche un modello di interazione orale, eventualmente, esercitare la pronuncia, pochi l'hanno detto, vedremo dopo, se si può utilizzare anche in questo modo. Ok. Adesso possiamo passare ai testi orali. Gli input orali. Quali tipi di, appunto, input orali possiamo sfruttare meglio con i nostri bambini? Vediamo se qualcuno ci risponde, cosa usate. Le canzoni. Le canzoni, filastrocche. Canzoni filastrocche, canzoni filastrocche. Sì. Bravissimi. Favole, qualcuno dice. Musica, video. Poesie. Sì, mi sembra che tutto abbia la rima. Bravissimi. Allora, vediamo. Allora, innanzitutto, i dialoghi. I dialoghi perché offrono un modello di interazione orale che per loro è familiare, comunque, perché questa è la nostra quotidianità. E soprattutto perché ci danno anche la possibilità di controllare e rendere esplicito il lavoro su alcune funzioni comunicative stabilite. Ma, come avete detto voi, anche le canzoni e le filastrocche, perché sappiamo che le rime e la ridondanza aiutano a ricordare e perché anche questi tipi di input sono brevi e perché soprattutto i bambini in questo modo possono muoversi, ballare e giocare, che è sempre fondamentale. E poi, come diciamo sempre noi, con la canzone e con la rima impariamo l'italiano prima. E poi, anche con le conte. E tutti questi sono, come ben sapete, tipi di testi con i quali i bambini hanno maggior familiarità. Quindi, è normale che preferiamo utilizzare questo tipo di input orale. E l'ultimo, forse, input, quello scritto. Quali tipi di testi scritti possiamo utilizzare con i bambini? Ovviamente, certo, dipende dall'età, dipende dal livello linguistico che hanno raggiunto. Comunque, voi che cosa utilizzate? Fumetti, favole, filastroche, canzoni, poesie, dialoghi, scritti, favole. Pensate anche un po' ai bambini slogan. Pensate ai bambini un po' più grandi, dai, verso i 10 anni, i 11 anni. I bambini... Alla fine delle elementari, insomma. Siamo già magari anche, pensate ai bambini più grandi. Messaggi. Messaggi. Riviste. Graffiti. Graffiti interessante. Racconti devi. Ok. E-mail. Bravi. Esatto, dipende un po', appunto, come abbiamo detto, dall'età e dal livello linguistico raggiunto. Chat. Sì. Strisce di giornali. Sì, perché ormai i bambini sono più digitali di noi o quanto meno di me, quindi possiamo tranquillamente utilizzare anche con loro delle e-mail adeguate, appunto, con dei contenuti adeguati. Possiamo utilizzare dei giornali, possiamo utilizzare anche gli SMS, blog, diario, un po' tutto quello che avete, possiamo utilizzare un po' tutto, insomma. Ok. Ma abbiamo tralasciato un input, no? Perché ne manca un quarto, quello che unisce tutto quello, questo, quello che è visivo, un input visivo, orale e scritto. Qualcuno dice qual è? Quale sarà, secondo voi? Non ci sono ancora risposte. Perché? Stanno facendo il caffè. Sì, perché secondo me hanno risposto prima con quello ultimediale. Ok. Quello video, no? Perché il video, appunto, unisce in un unico input sia l'immagine, sia il suono, sia la parola scritta, ovvero quella dei sottotitoli. Adesso, non abbiamo tempo oggi di soffermarci sull'uso del video in classe, ma avrete il piacere di seguire un intero webinar fra due settimane tenuto dal dottor Marin. Oggi, però, vi farò vedere uno spezzone di tipo di video che potete utilizzare con i vostri bambini. Allora, interrompo un attimo la condivisione, condivido lo schermo e faccio partire. Spero. Che bella la fattoria! Fai un attimo pausa, forse. Che è successo? Non vediamo lo schermo. Brava. Mangia! Aspetta, rifaccio. Guarda, fan fan! Ho il tutto dentro dietro. No. Oh, bello! Ci sono anch'io. Venite a vedere i maiali! Non ho tanto maiali, vero. Guardate il maialino! Fermo, maialino, vieni qui! Edmond, attento al gatto! Aiuto! Come corro nelle galline! Ok. Allora, chi è il tempo di detenzione? No, aspetta, aspetta un attimo. Allora, Anna sta condividendo. Sì, un attimo solo, perché devo reinserire la presentazione. Sì, eccoci. Sono tornata? No, non sono tornata. Ok, ci siamo. Ci vedete? Tutto ok? Tutto ok? Sì. Ok. Questo era solo per farvi vedere appunto un pezzettino di una tipologia di video, che effettivamente si tratta fondamentalmente di un fumetto animato, con i sottotitoli, quindi si possono divertire con i dialoghi, le immagini e l'audio. Ok. C'è qualche... Io posso andare avanti, vero? Sono motivanti, dicono. Sì, sì, no, è piaciuto. Mi danno dei feedback positivi. Ottimo. Allora, andiamo avanti con la terza e quarta parte. Un'unica cosa per completare questa digressione sulle tipologie di input, tutte queste devono avere delle caratteristiche fondamentali, soprattutto per l'insegnamento a bambini. Devono essere vari, devono essere brevi, chiari e ridondanti, perché se non mi annoio e se capisco, aprendo. Quindi questo era fondamentale. Ora, proseguiamo. Proseguiamo. Abbiamo visto varie tipologie di input, le loro caratteristiche. Vediamo adesso di presentare qualche attività. Allora, questo è un esempio di fumetto, come potete vedere. Che c'è? Scusa, dovresti riavviare la webcam. Grazie. In questa fase, Elisa impazzisce, mi sbaglia il layout. Ok. Allora, scusate perché adesso lo devo ritrovare. Lo ritrovi tu? Sì, il fumetto è proprio direttamente. Sì. Ok, grazie. È una proposta che fosse troppo prezzo. Ok, grazie mille. Scusateci. Ritorniamo. Allora, si tratta appunto di un fumetto, non vi dico cosa c'è, lo vedete voi. Quali sono gli elementi lessicali, grammaticali, le funzioni comunicative che presentereste con questo testo? Imperativo, animali, imperativo, imperativo, l'imperativo ovviamente, ne ho scritto. Ok. Sì, vai. Vado, vediamo un po' che tipo di attività potremo fare, su cosa potremo lavorare. Noi per esempio in questo caso lavoreremo sul lessico appunto degli animali della fattoria e sull'aspetto morposintatico del singolare e del plurale. In che modo? Con un doppio input, quindi un ascolto e un completamento di un testo scritto. Vediamo un secondo esempio, questo è un breve testo, si tratta di una descrizione. Ciao, mi chiamo Francesco, ho otto anni, abito a Napoli, mi piace la mia città, è molto bella, c'è il mare, c'è il Vesuvio. Domenica sono andato con il mio papà sul Vesuvio. Parte. Allora, come potete ben vedere, si tratta di una descrizione che possiamo, avrete già capito, utilizzare per lavorare sul passato prossimo e sugli elementi di civiltà. Anche in questo caso, come lo possiamo presentare? Adesso vi farò vedere, vi do un po' di esempi di attività. Sicuramente con un altro doppio testo input, quindi l'ascolto e il completamento del testo scritto. Qui abbiamo tolto la parola, il nome della città, e l'abbiamo corredato ovviamente di immagini per comprendere appunto meglio lo stimolo. Ovviamente un testo così non può essere presentato da solo per essere utilizzabile, ma va accompagnato da altrettanti testi sempre sulle stesse forme appunto morfosintattiche per poterli farli lavorare e comprendere la differenza tra il presente e il passato prossimo e per dargli ulteriori informazioni a livello di civiltà e di cultura, in questo caso in monumenti e in città. Ok, passiamo alle ultime parti che sono appunto il terzo momento di fissaggio della lezione dei contenuti. Innanzitutto è importante definire su che cosa facciamo a lavorare i nostri studenti. Dobbiamo lavorare soprattutto sul lessico e sulle routine comunicative e sul linguaggio del qui e ora con questa tipologia di alunni e di studenti. E quindi in questo caso anche la grammatica viene assimilata più che altro sotto forma di routine. Se vi ricordate gli esempi che abbiamo visto poco fa dei due input, una era la canzone con le azioni abituali e riflessivi e l'altra era appunto il testo sulle città italiane e il passato prossimo. Che attività potremmo fare in questa fase? Non so se qualcuno... Però non abbiamo molto tempo, magari. Sì, ve le faccio vedere un po' io rapidamente. Allora, possiamo, se vogliamo rivedere l'aspetto morfosintattico, possiamo fargli completare appunto una tabella sui riflessivi, appunto come mi dicevo, preso sempre come routine comunicative. Oppure potrebbe essere un altro ascolto e collegamento. Quindi questi bambini raccontano cosa fanno, questi quattro bambini qui a sinistra raccontano appunto delle azioni e i bambini devono capire di che azione si tratta e abbinare l'immagine. O invece, se prendiamo il secondo input, che era appunto la descrizione, che cosa possiamo fare? Possiamo, per esempio, fare un riordino, quindi fissare le strutture attraverso un riordino di frasi sia al passato prossimo, sia al presente. Oppure possiamo farle lavorare sull'accordo del participio passato e anche sulle conoscenze culturali, perché prima devono fare un completamento con la forma giusta e poi devono unire la descrizione al monumento. E poi passiamo all'ultima fase, che è quella di verifica. Questa è una parola che di solito un po' spaventa gli adulti, però con i bambini più che altro ci si diverte, perché secondo voi con i bambini che tipo di verifica proporreste? Quale tipo di attività utilizzereste per una fase di verifica con i bambini? Mentre rispondono, ripeto quello che ho scritto anche in domande e risposte, perché vi chiediamo di rimanere online cinque minuti in più e giusto per lasciarci il tempo un po' di concludere. Grazie. Sì, creare testi, role play, breve presentazioni personali. Giochi, giochi, giochi. Descrivi, quindi parlare, giocare. Parlare, giocare. Dramatizzazione, attività di gruppo, mimare, role play, attività ludiche. Vedo che nessuno ha scritto un serissimo test di verifica con... Meno male! Ok, sì, esatto. Per i bambini la fase di verifica corrisponde a una fase soprattutto di gioco, come avete ben detto, o di attività pratiche e di drammatizzazione anche. Vi diamo noi qualche esempio che potrete sfruttare, per esempio con questo testo input che abbiamo visto della sala da pranzo con gli animali e vogliamo vedere appunto se si ricordano gli indicatori spaziali e l'altro testo, scusatemi, sui fumetti e gli animali della fattoria. Vediamo per esempio appunto il primo testo input, come possiamo verificare che abbiano assimilato gli indicatori spaziali. Un semplice completamento con appunto dov'è chicco, questo chicco è il gatto e devono inserire appunto dove si trova. Ma ancora meglio, che cosa possiamo fare appunto? Un gioco. Il gioco per esempio dell'oggetto misterioso. Quindi vi faccio un esempio veloce. Un studente, un bambino, sceglie un oggetto all'interno della classe e poi deve dire delle, deve dare delle informazioni. Per esempio, è di fianco alla lavagna, è sotto il banco di Marta. E gli altri bambini devono capire appunto di che oggetto si tratta. Per quanto riguarda il fumetto, che cosa possiamo fare per esempio? Possiamo fargli fare un cruci puzzle. Loro vedono le immagini e devono ricordarsi il nome dell'animale e trovarlo nel cruci puzzle e poi riscriverlo. In questo modo, tra l'altro, si creano anche un loro, si formano un proprio vocabolario, no? Handmade, che potranno riutilizzare per tutto un anno. Oh, di nuovo un altro gioco. Questo gioco è Trova il tuo simile. Non so se qualcuno già la conosce. Che cosa possono fare? Gli diamo delle tessere, con queste che vedete qui, sulla presentazione. Sono degli animali, quindi ogni bambino pesca la tessera e corrisponderà appunto ad un animale. E poi deve cominciare a girare per la classe a quattro zampe e a fare il verso dell'animale. Ci saranno due studenti con lo stesso animale, quindi deve trovare l'altro animale che fa lo stesso verso. E poi il gioco si conclude con una frase tipo noi siamo le mucche, noi siamo i leoni, eccetera. E quindi lavorano su queste strutture. Ecco. Allora, io penso di avervi dato un'infarinatura un po' generale e veloce di attività. Spero che comunque di avervi dato qualche input utile. Chi ride? Rido io. Ok. Perché chiedono dove si possono trovare i giochi che abbiamo visto, oltre ai libri di lingua. Quindi sì, se vuoi facciamo un piccolo spoiler, se si può. Sì. Ok. Allora, salto la slide riassuntiva di quello che abbiamo visto oggi. Tutte queste attività effettivamente le abbiamo prese da Forte, che è appunto un corso dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni, suddiviso su tre volumi, e hanno anche il CD-ROM e il CD per l'ascolto audio. Per i bambini, i giochi, i giochi, questo è un segreto. Stiamo preparando degli ulteriori giochi per voi, che saranno presto disponibili, ma non vi posso dire di più. Mi dispiace, Lisa. Allora, come vi dicevo, queste attività che abbiamo visto oggi, noi ci siamo sottarmati sui bambini dai 7 anni in su, proprio perché le esigenze di bambini di età prescolare sono diverse, proprio per una conformazione appunto del cervello. Però, ho fatto un clic in più, c'è un altro testo che potete utilizzare per i bambini più piccolini, sono appunto piccolo e forte, anche questo con il CD, e sono appunto per i bambini dai 4 anni ai 7 anni. Comunque, per tutte le altre informazioni troverete il link alla fine del webinar, potete cliccare e troverete tutte le informazioni, altri giochi anche online, la grammatica per i bambini, tante altre cose. E la bibliografia utile, come diceva Lisa. Quindi, vi aspettiamo, allora, prima di salutarvi, vi chiederemo di rispondere al nostro feedback per sapere appunto quali altri webinar potremo fare in futuro vi interesseranno, magari quello sui bambini dai 4 ai 7 anni forse. Vi aspettiamo tra due settimane con l'ottor Marin, con il webinar sul video in classe, quindi tecniche e risorse per motivare i nostri studenti. Ok, non ve ne andate. Non ve ne andate perché dovete scaricare l'attestato. Ci risentite? Sì, dentro. Allora, vi ringraziamo per, vediamo se ci risentite. Sì. Allora, vi ringraziamo per il vostro feedback, per la vostra pazienza perché abbiamo sforato di 5 minuti. È colpa di chi ci diceva c'è tempo, c'è tempo, non preoccupatevi. Ci dispiace che questi incontri siano così concentrati e che qualche volta piacerebbe anche a noi continuare a discutere, farvi vedere più cose, ma i tempi sono quelli che abbiamo stabilito, forse cambieremo. Vi ricordiamo che sotto il nostro viso potete scaricare l'attestato di oggi, lo scaricate e ve lo compilate. Vedrete anche le indicazioni, le note nella prossima schermata e la bibliografia. Ci sono link utili ai corsi che abbiamo visto prima, forte, piccolo e forte, e ai giochi online per bambini, ai racconti, eccetera, eccetera, per bambini. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere anche a redazione 2, lo vedrete dopo, non preoccupatevi, per informazioni sui corsi, anche quindi sull'utilizzo di corsi, mi avete chiesto prima con figli di madrelingua, madrelingua, eccetera, magari ne parliamo. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra due settimane con il dottor Marin, ci saremo anche noi, vi risponderemo alle chat, non vi preoccupate, e quindi siete sempre nelle nostre mani. Ok, allora, bene, buona giornata, anche a comincia, e buon pomeriggio, insomma, in tutte le parti del mondo. e buona lezione. Ciao.